Fasi finali per le ragazze under 15 della palla nuoto Trieste. Sabato a Ostia le Triestine saranno impegnate per la corsa allo scudetto seguendo in una sorta di filo conduttore gli impegni recenti delle più grandi di categoria. In queste settimane allenamenti di scarico per arrivare pronte all'appuntamento dove in girone si incontreranno la CSI Venere Azzurra, l'Equipo Orizzonte e la SIS Roma. Le aspettative sono di fare bene, di entrare fra le prime quattro e di riuscire magari ad andare a podio. Le ragazze si sono allenate molto bene tutta l'estate e non vediamo l'ora di cominciare. In quest'ultimo periodo, soprattutto quest'ultima settimana, stiamo cercando di scaricare un po'. Lavoriamo magari ad affinare gli schemi che sono già acquisiti e di essere un po' più brillanti. Sicuramente questo caldo non aiuta, però le ragazze si impegnano, vengono sia la mattina qui all'Ausonia che abbiamo un ottimo spazio, sia che alla sera alla Bianchi e quindi si riesce a lavorare molto bene. Una squadra che, come conferma l'allenatore Andrea Piccoli, dovrà trarre forza dalla coesione del gruppo. Questo è un gruppo giovane, formato da alcune 2003 e parecchie 2004. Quello su cui puntiamo è di stare bene tutte assieme, di lavorare tutte assieme e di non puntare soltanto su una, ma che tutte riescano a dare il loro contributo per fare il meglio possibile.